Grazie a tutti. Siamo collegati tranquillo con Los Angeles con i fratelli americani. Ah, certo che lo conosco. Calogero è, Calogero. Signor Drago, buonasera. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ma un po' di cose, un po' di programma dove salire se faccio. Io sto facendo sempre video dedicati alla Sicilia, così quando voi siete in America... Grazie, insomma. Numero uno. Io glieli faccio vedere a tutti qua. Ah, tuo fratello? A tutti. A tutti, perché la Sicilia numero uno. Numero uno. Grazie. Forza Sicilia, forza. Saluta. Forza ragazzi che ce la facciamo. Saluta Giacomino. O meno servito. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. E proprio mentre ricevamo un video, senza aver organizzato nulla, il bello anche a volte delle nostre serate, che mentre facciamo un video qualcuno ci chiama. Ed oggi, a poco anzi, quest'uomo era in collegamento da Los Angeles con il signor Drago, con la famiglia originaria di Galatima Martino. Famiglia che ha nel cuore la Sicilia e ama soprattutto i video che noi costantemente regaliamo al mondo intero, per far sentire meno nostalgici i momenti, a volte anche di distanza, da chi purtroppo per cause lavorative, di famiglia, per varie vicissitudini deve lasciare la nostra isola. E quindi stavamo per fare questo video, quindi qui da Galatima Martino guardate Palazzo del Fuglia, che è bello. Una meraviglia. Poi la chiesa, in fondo, naturalmente questo è un brevissimo video, poi prossimamente su Onda TV e sulla pagina Facebook di Bella Sicilia. Tutto approfondito, con grande attenzione e con particolari dettagli. Mentre noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo video, la pagina Facebook di Bella Sicilia. Ciao. 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 Ciao.